Io sono sempre stato in qualche modo legato all'attività di volontariato, ho iniziato da bambino a fare gli scout che ti portano poi in qualche forma a seguire un po' la realtà nella quale si vive, nei modi più diversi. Di San Marcellino non sapevo granché, sinceramente quando l'ho frequentato la prima volta pensavo quasi che fosse uno di quei luoghi dove si dice vanno i disperati e non è vero perché poi i disperati forse lo siamo tutti e nessuno, nella vita abbiamo ognuno i suoi problemi, le sue difficoltà temporanee, si spera, a volte durano un po' di più, a volte durano un po' di meno, ma ho incontrato delle persone. Noi pensiamo di essere onnipotenti quando le cose vanno bene, quando stiamo bene, quando abbiamo sufficienti risorse per portare avanti la nostra vita, ma basta un inciampo minimo che può capitare a tutti, ripeto, che le cose cambiano. Quindi ho trovato una realtà, devo dire, da questo punto di vista molto bella e poi soprattutto direi formidabile per quello che è il servizio che viene dato anche alla società. E questo è veramente il grande valore aggiunto che forse si vede bene se ci si mette un po' il naso dentro. Quindi per me, ecco, personalmente è un'esperienza bellissima e spero di poter continuare a farla nel tempo, ma credo che sia anche un po' il messaggio che si deve conoscere. Perché la persona è quella che conta, non tanto il pasto caldo, perché poi quello non è più un problema per fortuna, ma è quello proprio di creare un rapporto, una relazione con le persone. Perché senza quello, sì, si può assolvere temporaneamente ad un aspetto tecnico, che però lascia il tempo che trova, perché probabilmente poi cessata la prestazione, appunto, tutto torna come prima. Mentre con una ricostruzione dall'interno, quindi con un aiuto a riprendere fiducia in se stessi, il problema lo si risolve definitivamente. Mentre con una ricostruzione dall'interno, quindi con una ricostruzione dall'interno e dall'interno, quindi con una ricostruzione dall'interno di cui si vede il problema.